Giacomo Leopardi Giacomo Leopardi nasce il 29 giugno del 1798 a Re Canati, una cittadina delle Marche. La sua è una nobile famiglia, è il primo di cinque figli. Il suo naturale bisogno d'affetto è frustrato dall'indifferenza del padre e dall'eccessiva severità della mamma, dedita a risanare il dissestato patrimonio familiare. Riceve la sua prima educazione da precettori ecclesiastici. In seguito si applica da autodidatta, grazie alla ricca biblioteca paterna, allo studio della letteratura italiana, delle lingue e letterature classiche, nonché della lingua ebraica. Diventa così padrone di un'immensa erudizione. Questo studio, dallo stesso definito matto e disperatissimo, gli rovinerà per sempre la salute, causandogli una leggera deformazione al corpo e disturbi alla vista. Matura così una crisi profonda e, nel 1819, progetta di fuggire da Re Canati. Il tentativo di fuga però fallisce ed egli ripiomba in uno stato di profonda prostrazione. In un simile clima nascono gli dilli, la sua prima grande stagione poetica. Nel 1822 ottiene il permesso di lasciare Re Canati e si reca a Roma, ospite di parenti materni. Dopo qualche mese però, deruso e amareggiato, ritorna nuovamente a Re Canati, dove vi rimane due anni e dove si dedica alla composizione delle operette morali. Nel 1825 si trasferisce a Milano, su invito dell'editore Stella, con l'incarico di sovrintendente all'edizione delle opere di Cicerone. Poi, successivamente a Bologna, infine a Firenze e a Pisa, alle prese sempre con problemi economici e con la salute ancor più cagionevole. Di questi anni particolarmente importante è il periodo trascorso a Pisa, dal novembre del 27 al giugno del 28, durante il quale ritrova la bena poetica, che riteneva definitivamente inaridita e compone a Silvia e Risorgimento. Fa ritorno a Re Canati, dove vi rimane fino al 1830. In preda a una profonda tristezza e immerso nella lucida consapevolezza della propria infelicità, in questo periodo nascono i grandi idilli, che l'anno successivo, nel 1831, confluiranno, insieme agli idilli, già pubblicati nel 25 e nel 26, nella prima edizione dei canti. Finalmente, nella primavera del 30, grazie a una somma raccolta e messa a disposizione da amici fiorentini, Giacomo Leopardi lascia definitivamente Re Canati e si trasferisce a Firenze. Qui si innamora, non corrisposto, di Fanni Targioni Tozzetti e stringe una duratura amicizia con Antonio Ranieri, un'esule napoletano. Proprio insieme a quest'ultimo, nel 1833, raggiunge Napoli, convinto di trovare sollievo ai propri mari grazie all'amitezza del luogo. A Napoli, trascorre gli ultimi anni della sua vita, intento a scrivere e a curare la pubblicazione delle edizioni definitive, delle operette morali e dei canti. Muore, assistito da Ranieri, il 14 giugno del 1837, a seguito di una violenta crisi d'asma a soli 39 anni.